Musica Anche incontrare magari un attore oppure il regista o la regista e fargli qualche domanda, scoprire le curiosità è una grande opportunità. Musica Siamo molto fortunati che la nostra scuola ci fa fare queste cose molto belle. Musica Due volte a Tori abbiamo potuto parlare con loro, i film che abbiamo visto sono stati belli, che è un'opportunità ed è stato molto bello. Musica Grazie al Magna Grecia perché la scelta sui film che ci ha fatto vedere è veramente stata oculata e molto interessante per i nostri alunni. Musica Ogni film trattava una tematica particolare e quindi abbiamo visto una risposta abbastanza positiva dai nostri alunni. Grazie a Gianvito Casadonte, al Magna Grecia Film Festival e ai suoi collaboratori. E quindi grazie e alla prossima. Musica 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 Grazie per la visione!